Di Ancelotti ricordo soprattutto le parole di grande amore e affetto per la città, da napoletano e da sindaco oltre che da tifoso, questo mi fa piacere. Mi dispiace che non si è riuscito a vedere l'impronta del modulo di Ancelotti nel Napoli, un po' perché magari non ci è riuscito, un po' perché non ha avuto il tempo, un po' perché è accaduto quello che è accaduto nelle ultime settimane. Noi dobbiamo guardare al futuro e adesso non spetta a me esprimere valutazioni su un allenatore che è appena arrivato, invece mi auguro da sindaco e da tifoso che il Napoli ritrovi quello spirito di squadra, di compattezza, di coesione e di voglia di combattere sul campo, perché si deve far trovare in condizioni migliori quando ci sarà la prima partita con l'inizio dell'anno nuovo di Champions e per rialzarsi un po' in classifica perché stiamo molto indietro. Mi preoccupa un po' invece quella lacerazione che si è vista in queste settimane tra società, allenatori e squadra. Questo non va bene, non va bene soprattutto per quello che il Napoli invece aveva rappresentato negli ultimi anni, una squadra di grande compattezza, di grande coesione, con un bel calcio e con la voglia di lottare fino alla fine.